Bella ragazzi facciamo subito i giri di ruota di oggi primo giro per calcio l'over 56 ragazzi Prima facciamo tutti i giri per gli iscritti e poi facciamo i giri anche per gli abbonati ragazzi Primo giro buco andiamo con il giro di Domenico Catalano Niente giro per Simo Niente anche per lui giro per Snake Vediamo un po' che l'altra settimana anzi questa settimana ha vinto un bel regalino Che deve ancora riscattare ma l'ha vinto Giro per Nessuno.4 Niente giro per Lucian Sandu Niente giro per Nunzio Vosa E mancano poi ragazzi ancora due estrazioni eh Giro per Faze Attenzione Faze Faze si porta a casa il suo giro di ruota Cioè il suo regalino e poi giro per Stella ragazzi Avete sempre massimo uno o due giorni per vedere il video ragazzi e contattarmi Attenzione Attenzione Che pelo ragazzi che pelo Per il momento solo Faze ragazzi si porta a casa il suo regalino Grazie a tutti